Fame Blu è l'opera di Viola di Grado, uscita nel 2022 con la casa editrice La Nave di Teseo. Viola di Grado è un'autrice che ha vinto il premio Campiello nel 2011 ed è appassionata della cultura dei paesi orientali. Ho scelto di proporre questo libro nei miei racconti perché innanzitutto è un'opera attuale e poi perché mi ha molto colpito l'accostamento tra sesso e fame. Le due protagoniste sono affamate d'amore e quindi si mangiano vicendevolmente, non soltanto a livello metaforico ma soprattutto a livello fisico. Cercano di colmare la loro solitudine accostandosi l'una all'altra, cercando di appropriarsi del corpo dell'altra. Partendo da una situazione iniziale di incapacità di amare, le due ragazze compiono un percorso molto doloroso e a tratti sadico per arrivare alla piena consapevolezza e alla liberazione dalle proprie paure.